Mi ha perduto il mio caro! E' più arancione! Verde o viola, regà? Ehi, regà, tutto è a me sta ad aspettare? Io non lo so il colore! Ma guardate, nessuno che va avanti! Allora, aspettate, li trolliamo, eh! Secondo me è bianco! No, regà, è impossibile che viene fuori bianco con celeste arancione! E secondo tutti quanti? Venite qua, bravi! Mamma mia! Tutti vi stanno seguendo, tutti quanti, tranne uno? Aspettate, eh! Noi controlliamo lo stesso, tanto non è detto che sia il colore giusto! Sui! Guardalo come citta! Mamma mia, sui, quanto corri, eh! Eh no! 3, 2, 1, tutti trollati? No, io esplodo invece! Ma regà, aspettate, eh! No, 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 vabbè, se ho indovinato la via, non c'è credo! Oh, sui! Ti fai sti gestacci vorrei sapere, ma come te permetti? Allora, trasparente? Immaginavo! E ora? Devo dire che questo caddi è molto, ma molto lento, eh! Sì, però secondo me... Verdi, regà! Credo di sì! Ma lì è troll! Aspettate un attimo, regà, che questo caddi va lentissimo! Regà, mi fate andare qua? No! Secondo me dobbiamo ritornare indietro, responiamo! Allora, io sono curioso se qualcuno ha provato, vedete? Eh sì! Stai proprio là, sui! Verdi! Sì, 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 c'è uno, c'è uno, regà! Non ditemi come ho fatto a vederlo! Però c'è qualcuno, credo, eh! Andiamo qua! Mamma mia, sempre che mi seguono sti suini! Che bravi! Allora, mocitto pure io, eh! Andiamo più veloci, facendo così! Regà, io flippo pure, eh! Aiuto, 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 aiuto! No, regà! Vabbè, puoi flippare un parolone, eh! Faccio il loop! Che poi non so come si chiama... Cioè, il termine corretto di quando si gira nei tubi! Io li chiamo! Faccio il cerchio! Faccio il loop! Non lo so manco io quello che dico! Regà, basta con sti gestacci! Sta arrivando qualcuno spedito! Propriamente va a beccare, grazie sui, eh! Allora, che dite? Questa è la via! Facciamo così così non ci trolliamo! Ok, ok, ok! Mamma mia, come... Siamo scesi alla perfezione! Allora, braciola... Sto provando qui? Eh, ma c'è una rincorsa! E lì cosa c'è, regà? Nero più nero! E quanto fa? Non lo so, regà! Aspettate, eh! Allora, comunque il colore era esatto, eh! Avevo qualche dubbio sul verde o viola, però... Alla fine era verde! Ma è così? Perché braciola sta qua! No! Oh, sì! Sì? Sì! È questa qui la via! E non bisognava nemmeno andare tanto alti! Ah, perché si incastrava con il tettuccio, vedete? Sì! Bisogna andare alti, eh! Credo che hanno capito! Allora, prendiamo questo bel check! Siamo a tre minuti di chiara! E nero più nero quanto fa, regà! Allora, come prima cosa vedo dei cespugli! Un po' sospetti, eh! Si può entrare? No! Proviamo i cespugli, regà! Ok, aspettate, eh! Eh, ma credo che non ci passa il caddi, no! Poi dobbiamo controllare anche queste vie, vi ricordate? Le vecchie gare troll che bisognava controllare anche qua! Ma nessuno riesce a passare? Sì, sì, è arrivato qualcuno! No, regà, io escluderei i cespugli perché non ci entra! Credo proprio di no! E non saprei! Non saprei, non saprei! Quale ha provato lui? Ah, no, no, no! Sta provando lui, là! Eh, responiamo, responiamo! Vediamo se... Se ritorna indietro, eh! Se non ritorna indietro, ovviamente, quella è la via! Ma laggiù c'è anche un altro troll? Sì! Cos'è? Rosso più azzurro, regà! Non lo so! Vediamo qua! Ok, facciamo così! Così andiamo belli rapidi! Però, nero più nero... Credo che sia troll, eh! Perché non ha senso, regà! Ah, ma qui... Qui si vede subito se la via è... Sì o no! Cosa? No, no, no! Ritorniamo indietro! Allora, il terzo non l'abbiamo provato! Ma sta provando Jerry? Sì, sì, sì! Sta provando lui! Noi proviamo questo qui! Se non è nessun tubo, dobbiamo girare... E andare a vedere! Dobbiamo controllare sotto, da qualsiasi parte! Dobbiamo un po' sbilciare, eh! Come facevo io! Ok, belli rapidi! Super, super rapidi! Qua c'è qualcosa! Dimmi di sì, dimmi di sì! No! Però ne manca solo uno! State tranquilli! Ah no, sta provando lo stesso troll che ho provato io? Non capisco, eh! Non lo so, regà! Andiamo qua! Eh, ma non credo, eh! C'è gente che è ancora incastrata al punto di prima! Vediamo se qui è fattibile! Non lo so! Non ho idea! No, regà! Ritorniamo indietro! Sono tutti, ma tutti troll, regà! Tutti quanti! Ah, sui! Che cosa controlli là? Bravissimo! Vediamo se c'è qualcosa qui! Sui occhio che te trolli! Aspettate, eh! Allora... Allora... Qui... Qui si può sbirciare... Ah, qui è... Dove eravamo scesi! Ecco pure Cabricol! Perché non si passa? No, perché l'ha chiuso? Dovevo sbirciare io! Aspettate... Usui, va a prendere il check! Ok! Ah, wow, wow, wow! Ok! Guardate un po', qua c'è un tubo! C'è qualcos'altro? No, c'è solo questo tubo giallo che ora proveremo! Forse è questa la via, eh! Però non sono sicuro, perché nell'altra gara troll, se vi ricordate, c'erano anche altre vie! Cioè, sembrava che era quella la via, ma alla fine non era! Ok, scendiamo qua... Con molta cautela... Rigirati bene sui... Ok! Mamma mia, regà! Cosa ha fatto il suino non si sa, eh! Vabbè, belli veloci! Belli veloci che superiamo tutti quanti! Ok! Comunque, regà, non so se sentire la voce, sono leggermente raffreddato, eh! Di nuovo... Oh, scusami sui, non volevo, eh! Ma proprio leggermente, eh! Ok! Allora... Dove bisogna andare? Dobbiamo girare qua? Va sui! No, 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 no! Sì, ci siamo! Pensate che volevo pure flippare! Ah, sì, sale qua! No, sui! Lui è rimasto trollato, eh! Ok! Ah, sui, ma come te permetti, vorrei sapere! Ah, tutti stanno arrivando! Mamma mia! E proseguiamo, dai! Questa è una bella gara troll di squadra, eh! Ce la fa salire... Ah, c'è il doppio turbo! Ah! Ah, direttamente nel tubo nero siamo! Ok! Andiamo! Vediamo se è questo! Ma io non ho visto nemmeno cosa c'era scaritto sopra, eh! Ok, andiamo! Ah! Aspettate, regà! Non vorrei dire una cavolata, eh! Però intanto controlliamo! Eh! Praticamente dobbiamo prendere il check! Ah, guardate che spettacolo qui! Bellissimo! Aspettate un attimo, eh! Sui metrò là, che mi vuole sparare a miniatura! Una bella miniatura! Rosso più celeste! Allora, regà, fatemi pensare! Arancione non c'è! C'è giallo! Potrebbe essere viola questa volta! Verde non credo! Ci voleva il giallo per fare il verde! Sì, perché prima era azzurro! Celeste più giallo! E veniva fuori verde! Spero che... Non sto dicendo cavolate, eh! Secondo me è viola, sapete! Però, come prima cosa dobbiamo prendere questo check! Eh sì! Ah, ho capito, ho capito, ho capito! Andiamo qua! No, 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 sui! Deve conviene fare così! Se io ce la faccio! Ok! Perfetto! Rigiriamoci! Dopodiché... Ce la dobbiamo fare? Dimmi di sì! Ce la devi fare? Sì, sui! Oh, sui, sui! Aiutami! Grazie! Ok, possiamo proseguire! Come prendere check sui... Ok, eccolo qua il check! L'altro check sta lì! Perfetto! Qualcuno sta salendo là? Cosa c'è lì? Non lo so! Chi è? Un gabricol? Al completo da su in alliero! Ok, rispondiamo! Ah, perché qua c'è un altro check! Sì, dobbiamo andare anche qua sopra! Quanto manca alla fine? Ah, è quasi finita! Eh sì! Qui dobbiamo salire nel tubo? Basta solo che giro? Raga, io... Io faccio così! Grazie, sui! No! Quasi! Oh, lei! Ci siamo! Prendiamo questo bel checkpoint! Perfetto così! E ora? Posso fare un metro là, eh? Lì c'è il check! Qualcuno mi trolla? 3, 2, 1... Nessuno mi trolla? Strano! No, nessuno! Raga, tutti bravi! Grazie mille! Vi ringrazio con un bel gestaccio! Adesso tutti giù! Venite tutti giù! Vediamo se qualcuno mi segue! Credo di sì, eh! Non li vedo da qua! Ma qualcuno sono sicuro che è sceso! Respondiamo noi! Allora, adesso... Dobbiamo vedere il troll! Qualcuno ha provato? Gabricol sta in quello viola! Credo di sì! Raga, io... Io mi trollo! Mannaggia a me che stavo guardando la minimappa! Ok, aspettate, eh! Qui sono un po' trollato! Ok! Anche secondo voi è questo viola? Proviamo tutti insieme, va? Prendiamo una bella rincorsa! Ok! Rigiriamoci! E saltiamo qui! Usui, eh! Mannaggia a te! Ci sono? Un po' trollato ma ci sono! Siamo tutti qua! Mamma mia, quanti caddi! Andiamo, andiamo, andiamo! Belli veloci! Ok! Usui! Hai fatto il loop e ti è riuscito? Sì! Ti è riuscito il loop a lui! Grandissimo! Oh, raga, ci trolliamo qua, eh! Oh, aiuto, 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 aiuto! Ok! Aspettate, raga! Gli altri non hanno visto! Ma qua... Ah, guarda qua! Che spettacolo! Venite qua! Gabricol! Dove sei, sui? Ok! Gabri c'è! Anche lui c'è! No! Vabbè, noi andiamo intanto, eh! Credo che hanno capito qual è il troll, eh! Mio Dio! E qui? Aspettate, eh! Rosso più bianco! Rosso più bianco-rosa! Perché dopo si scolorisce! Eh sì! Vedete pure Gabri con l'esperto! Di coloriti! Vediamo un po', raga! Devo spararmi pure una bella miniatura qua! Che queste mega rampe sono fantastiche! Allora, voglio fare così! Ok! Da una parte credo che non ci sia il turbo, sapete? Sì! Sì sì! Anche quella gialla, eh! Aspettate! Aspettate un secondo! Ok! Andate avanti che io devo fare una bella miniatura! Che spettacolo, però! Allora, avevamo detto che era questa rosa... A... Sinistra! Vediamo, eh! No! Come no? Allora, a cosa servono queste basi? Cioè, questi pezzi... Questi accessori, a cosa servono? Perché non è... La rosa? No, raga! Aspettate un attimo, eh! Non lo so! Sinceramente... Non ho idea! Qua? Nemmeno? No! Nada! Proviamo questa... Questa gialla! Ma c'era un check qua, eh! Raga? C'era un check, vero? Perché non riesca a ritorno... Oh! Dove è andato lui? No, raga! Devo respawnare! Ah! Ok, ok! Dove era il turbo? Aiutatemi! Era qui sui... Dove? È qui? Ah, ok! Lì c'è il traguardo! E qui c'è il troll! Ok, aspettate, eh! Lì c'erano delle mega rampe per andare a concludere! Comunque, voi indovinate, era questa rosa, eh! Perché è rosso più bianco... È rosa! Raga, ma se io giro... Si può citare e prendere il traguardo? Oppure devo fare le mega rampe? Aspettate un attimo, eh! Perché c'era il faremo in mezzo, eh! Anche loro stanno provando? No, loro vanno dritti? Sì! Qualcuno gira? Usui! Usui, 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 usui! Non concludere, usui! E raga, ci andiamo a prendere questa prima posizione, però raga, questa è una prima posizione di squadra, eh! Qualcuno ce l'ha quasi fatta! Comunque, una prima posizione di tutti questa, eh! Andiamo a concludere! Mamma mia, che gara troppo! Se vi è piaciuta questa gara, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, sui video su Instagram, saluti, passi sui link, bello! Ciao! Ciao! Ciao!